Contro le politiche repressive attuate dai talebani nei confronti delle donne in Afghanistan arriva la risoluzione ONU, ferma la connanna del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che si oppone all'unanimità al divieto di lavoro imposto dal regime anche nell'ONU e nelle ONG. Gli Stati Uniti e la comunità internazionale sollicitano un processo politico inclusivo che rifletta la diversità dell'Afghanistan, scongiurando un rischio maggiore di violenza di genere e sfruttamento sessuale. Grazie a tutti.